Quali sono secondo lei le idee vincenti che consentono a un'impresa di trasformarsi in attività di successo? Per essere un'attività di successo l'impresa deve proporre delle soluzioni innovative a quelli che sono dei bisogni concreti di un mercato ancorché potenziale. Quindi devono essere delle idee in grado di risolvere meglio o comunque in modo efficiente qualsiasi tipo di problema che l'utente possa avere. Quali sono gli aspetti critici che consentono alle strategie d'impresa di avere successo? Gli aspetti critici sono sicuramente un'attenzione ai costi e ai ricavi che a volte non è così chiara soprattutto ai giovani start-upper, una grande fantasia, una grande capacità di mettersi in gioco e di confrontarsi col mercato, con gli utenti e con tutti gli stakeholder ai quali ci rivolgiamo con i nostri prodotti e con i nostri servizi.